ciao a tutti ragazzi sono ammela sono qui oggi con ben lage allora è arrivato signori è arrivato la pacco dall'america che sono queste queste dove sono le tue tutto assieme e niente adesso non ci sono bobo e gips perché ma iniziamo a farlo no queste qua sono di bobo e mie qua ci sono le tue quelle di gips allora inizio io con quelle mie di gips esatto abbiamo penso fatto un ordine da tipo 250 euro di carico di più sì qualcosa di quali sono le mie quali sono queste di gips partiamo con quelle di gips dai gip ha preso qualche token perché gli piacciono io non so se condividete il mio pensiero io penso che sia un idiota ha giusto anche questo perché voleva detto poi ha preso un susanowo due turge e tre pike che li deve spedire perché ha dato via tutte e due le basi mermail e quindi gli mancavano dei pike da dare quindi li spedisci poi tre scarcrow perché era l'unico stronzo senza scarcrow no anch'io anche te uno spirit ritter ripper perché è bielo no quanto è bello quanto è bello americano ragazzi cioè ve ne dobbiamo far vedere è illegale cioè metti a fuoco stronzo cioè sono assurdo sembrano false stesse carte un tricce rosa tre disarmament tre disarmament tre gods e match e per finire due trasmi che anche se qua c'è l'inca tra un figlio in america metti a fuoco ah c'è la lucina gay che rompe il cazzo vabbè vedete troppo becce e queste erano le carte di gilbaux ma siamo le mie a ordine vabbè e potete vedere l'abbiamo fatto in america quest'ordine sito yugioh mint e niente signori tra poco arriva il mio crazy rabbit con queste carte con questa gente qua ma quanti sono quanto sono no no i sabbi sono allucinanti epici c'è qualcosa illegali queste carte ragazzi poi vabbè due reaper un po' di roba zumbetta per i vampiri realizzata un po' di roba per i vampiri questo per il site dei vampiri che le piassano molto crazy a burgin glielo buttar culo due belle piramide arton super che fanno sempre bene ecco ecco aspetta prima che ce lo chiediate chiediate non diamo niente non diamo niente perché abbiamo preso tutto perché ci serve a parte jibs forse il susano il susano può darlo ma per il resto non diamo assolutamente niente comunque un labradorite che nel frattempo me l'aveva trovato bobo comunque va bene thank you poi un vampire takeover che volevo il secondo tre vampire di hook e una vampire grace perché così è americana common è più bella americana anche questi qua sono illegali guarda che belli che sono loro due perché dato che il 13 ossia tra quattro giorni perché oggi è 9 da noi il 13 pubblicano la ban ed io per voglio nel giorno prima della ban ed voglio farvi vedere mythic dragon roller così per lutto per lutto per drago che verrà distrutto è una cosa prima cioè guardate ogni carta nella sua bustina e guardate che credo poi un dojo di shien e due elder super che sono troppo figli facciamo vedere facciamo vedere indiridibili questi è nel super poi due disarmament guarda la corsiesca sembra falsa che è assurda una corsiesca falsa si è falsa cioè ragazzi una black ship of corn che la volevo ultra io però non c'era però vabbè mi accontento di questa mid poi una trasmo che vabbè la gioco solo in due per quindi mi va bene una la gioco in vampiro poi vabbè la farò poi un alenzione un crazy felgrand perché minchia costava troppo poco ho detto va prendiamolo dai crazy e poi le ultime e poi crazy due mistake perché sono troppo grossi cioè che le ha pagati li sto splashando ovunque in qualunque mazzo con le trappole li sto splashando crazy mistake sono veramente abnormi ingridibili bene ora è il mio turno mi chiamo un fico felderon si va bene aspetta ma è storico come non so cosa sto coso guys così incredibili che ficata si allora il mio turn è così fatto che ho preso triplo wind up rabbits i secret cioè sono tra troppo fai g si vedono si vedono cioè troppo bene poi in capire il triplo machina cannon super perché c'ho un'idea in mente agate nei dio ai ma tanto costavano tipo 50 ct l'uno anche meno triplo scarcrow perché neanche te ce la dei triplo cose il match anch'io crazy triplo tra trick strapple così a cazzo due più disarmament compulse per realizzare perché credi questo compulse tracce us poi ha preso il 3 per di spirit vatten box spirit perché tanto costavano una sega cioè tipo 80 centesimi di cosa poi triplo di siti qua che tanto non si giocano e anche triplo di questi qualche tanto non si gioca però è giusto per averci non si sa mai poi una black ship e un 66 che costava una città di a e poi va beh qua ci sono dieci flying si ultra dammi due freni ora passiamo alla roba di bobo che ha speso la spesa che di tutti c'è però credito ha preso l'uno per di tutti i token della leggenda quanti ne ho preso io flying si 22 no tre forse non lo so poi ci guardiamo poi ha preso doppia dancer tripla arpi queen una lady di file form una file formation quello gay doppia hunting ground super tripla arpi e lady one così finisce di realizzare arpi e poi per attenzione roba bushing triplo mikazuki crazy questo mikazuki questo è veramente tanta roba è per quello che ha speso tanto l'acquiston è stato questo però non è costato troppo per per insomma voglio dire un quilling poi vabbè triplo centipede triplo boar triplo crow tra poco lo farà eh lo obblighiamo a farlo tra poco poi un tri aspetta aspetta doppio kagatsushi ultimati poi passiamo un trigon perché che fico che americano un number forty six dragluoni number del 50 angel of zera crazy anche questo qua c'è assurdo ha preso doppio traptrix trappole incredibili incredibili ma sono super sì sì ma sì triplo soul drain così perché ha detto triplo triplo god's match anche lui perché minchia questi sono old sì 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 tutti anche i vostri ma erano diversi i tuoi doppio horn of the phantom best o anche lui il compulse e triplo trap jammer che sinceramente non so questo non l'abbiamo capito comunque è bobo che è crazy esatto è bobo che è crazy well allora questo qui era il pacco dagli usa cioè ci sono sputtanati veramente un patrimonio di soldi però ma manco troppi eh sì no cioè cioè in quattro tanti sì singolarmente no cioè abbiamo speso tipo 350 dollari con le spedizioni erano non so 250 euro tipo qua vabbè tutte le cards crazy vi ricordiamo prima che ci veniate a rompere il cazzo che non diamo niente guardate questo merda di video con l'audio perché il primo che mi sì che scrive in commento lo dai è me lo mangio vivo sì un pattone gli arriva che lo derfo e niente un saluto da avena bella g bella g e ci vediamo al prossimo video ciao